parliamo di calcio parliamo del giorno più bello dell'anno in inghilterra il boxing day il turno di santo stefano dove gioca tutta la premier league gioca tutta la championship giocano tutte le categorie perché è così bello questo turno perché la gente torna a casa per le festività natalizie di conseguenza può andare a vedere la propria squadra gli stadi sono affollati e lo spettacolo è assicurato è stato un grande boxing day in premier league voglio parlarvene utilizzando come sempre anche un po di dati statistici che ci danno delle dei riferimenti veritieri e i dati statistici lo sapete io li trovo su one football potete seguire le partite live potete trovare tanti approfondimenti vi metto sempre il link in descrizione parliamo di questo boxing day della premier league e da dove dobbiamo cominciare dobbiamo cominciare per forza ancora una volta dalla squadra che non sta dominando sta tiranneggendo questo campionato il liverpool c'era attesa per questo boxing day che poteva fornirci un minimo di contraddittorio un minimo di indicazione invece l'indicazione non è stata minima è stata letale è stata praticamente una sentenza inappellabile perché il liverpool è andato a pasteggiare sul campo del lester secondo lo ha travolto 4 a 0 e a questo punto direi che davvero se il liverpool non dovesse vincere questa premier league se il liverpool non dovesse rompere questa maledizione che dura ormai da 30 anni allora vi do una cosa certa il liverpool la premier non la vincerà mai più perché il campionato è nelle mani dei reds il vantaggio è chilometrico più 13 sull'ester che ha una partita in più e che appena è stato battuto 4 a 0 più 14 sul manchester city il liverpool ha perso solo due punti in tutto il campionato il pareggio di old trafford per il resto le ha vinte tutte e visto che ci sono 13 punti sulla seconda vi do questo dato il liverpool ha perso 13 punti nelle sue ultime 45 partite di campionato questo vorrebbe dire che il lester per agganciare il liverpool dovrebbe vincere tutte le prossime 45 partite quindi sconfineremo la prossima stagione e lo aggancerebbe se il liverpool dovesse tenere il passo delle ultime 45 questo è un riscontro statistico abbastanza assurdo però ci dà proprio la dimensione dell'assurdità del pensiero che qualcuno possa andare a riprendere i reds reds che hanno vinto ancora regalando un gioco fantastico spinti ancora da firmino firmino che è stato l'uomo del mondiale che è l'uomo di questa fine d'anno anche se l'uomo della partita è stato alexander arnold ha segnato il terzino destro del liverpool è arrivato in doppia cifra stagionale di assist e siamo ancora a dicembre ho sentito un esperto di calcio inglese dire il liverpool ha la miglior coppia di terzini del mondo forse una delle migliori che si siano mai viste nel paese sono perfettamente d'accordo alexander arnold e robertson fanno tutta la differenza possibile in questo momento in questa squadra e qua torniamo a un mio vecchio pallino a un concetto che vi ripropongo un po con continuità quando sei una squadra di massimo livello in questo calcio quando vuoi vincere tutto si la qualità davanti si i giocatori di piede in mezzo al campo si dei centrali che sappiano resistere all'uno contro uno si un sistema di gioco coraggioso ma terzini che abbiano qualità che abbiano la capacità di incidere concretamente sulla partita quindi di fare gol o di far fare gol sono la chiave per avere quello step in più per arrivare davvero fino in fondo e infatti il liverpool ha la miglior coppia di terzini del mondo e infatti il liverpool ha vinto la champions league ha vinto il mondiale per club e ha praticamente vinto anche questa premier era un boxing day molto atteso anche per due debutti due debutti molto importanti il ritorno di ancelotti in premier league e la prima di arteta sulla panchina dell'arsenal due debutti che sono andati in modi piuttosto diversi ancelotti si è ripresentato accolto da grande eroe quale è da goodison park dalla sua nuova gente da tutto il popolo dell'everton ancelotti che a goodison park aveva vissuto la sua ultima partita in premier league nel 2011 prima di lasciare il celsi era stata una sconfitta invece si è ripresentato decisamente bene perché l'everton ha vinto una vittoria importante quattro risultati utili di fila per il club del mercesi dopo le tre ottime partite di duncan ferguson che aveva fatto una vittoria e due pareggi con un calendario molto complicato ancelotti ha portato un successo direi un successo alla vecchia maniera nella modalità del gol che ha deciso la partita ovvero grande pressione del centrocampista sigurdson che ruba palla cross perfetto dell'esterno si dibe già quattro assist stagionali per lui e colpo di testa estetico e concreto in tuffo di calvert lewin sei rating campionato per l'attaccante di ancelotti per cui un gol molto british in un giorno totalmente british anche se il modo in cui ancelotti ha presentato per la prima volta la sua nuova squadra è stato tutt'altro che un modo tradizionale un modo alla vecchia maniera perché ancelotti si è piazzato con la difesa a tre in fase di impostazione questo per avere più movimentazione più uomini fra le linee e ho trovato molto interessante la lettura che è stata data alla posizione al gioco di bernard che è un giocatore che per me deve essere messo nelle condizioni per poter essere importante perché ha le qualità per essere uno che fa saltare un po il banco in una squadra che fatica a sorprendere per certi versi guarda caso è arrivato ancelotti intuizione l'everton ha vinto e ci ha presentato uno scenario tecnico e tattico che ci fa venire ancora più voglia di vedere la prossima partita dell'everton dicevo debutto invece differente quello che ha avuto artetta alla guida dell'arsenal perché ha esordito pareggiando contro il bournemouth pareggiando in rimonta con il solito gol di istinto di obama e young tra l'altro obama e young continua a confermarsi bomber da trasferta perché dei suoi 12 centri in questa premier league 9 sono arrivati fuori dall'emirates stadium il bournemouth non era propriamente un avversario tremendo terribile da incubo una squadra che non aveva fatto un tiro nello specchio della porta in due delle ultime tre partite una squadra che in questo girone di andata ha mostrato spesso anche delle fragilità caratteriali ha buttato via dei risultati che potevano essere acquisiti ha sprecato delle occasioni molto favorevoli mi sembra di ricordare adesso vado a memoria ma credo di non sbagliare di aver visto non tanto tempo fa una partita contro il newcastle giocata in superiorità numerica per una settantina di minuti dalle cherries e non vinta per cui poteva essere un buon debutto per michel arteta lui si è detto soddisfatto ha detto di aver visto delle cose che lasciano presagire orizzonti interessanti ha detto di aver trovato diverse situazioni già più avanti di quel che si aspettava contento lui io non le ho viste tanto soprattutto non le sta vedendo la classifica l'arsenal è nella metà bassa ha vinto solo una delle ultime undici partite giocate in premier league i riscontri sono tutt'altro che buoni il calendario tra a cavallo della fine d'anno è estremamente esigente per cui contento arteta contenti tutti io cose per cui avere delle grandi speranze sul futuro più prossimo dell'arsenal non le ho ancora viste ma aspettiamo perché comunque era la prima partita in carica di sicuro dalla partita di gunners esce una brutta notizia non per il mondo arsenal anzi è buona ma per il mondo del nostro calcio specialmente per il napoli perché torreira secondo me è stato il migliore in campo torreira ha giocato una partita di altissimo profilo sia sul piano dell'intensità che su quello della distribuzione è stato molto impattante ed è stato molto preciso e questa ripeto non è una buona notizia per il napoli perché arteta è sicuramente uno che lì in mezzo al campo vuole piazzare un giocatore con le caratteristiche dell'uruguaggio torreira e il fatto che lo abbia lanciato subito e abbia avuto questo feedback potrebbe far pensare che insomma torreira possa essere tolto il prima possibile dal mercato o comunque che la richiesta si alzi ancora di più vedremo quello che succederà sul mercato intanto io registrerei questo fatto detto dei debutti di ancelotti e di arteta andiamo su qualche situazione che ha portato dei cambiamenti rispetto all'inerzia che si configurava qualche settimana fa o qualche mese fa e parlo soprattutto di manchester united e chelsea il manchester united ha vinto un'ottima partita 4 a 1 in rimonta contro il newcastle è vero che tre gol sono stati un po regalati dai magpies però greenwood ha segnato ancora un gol tra l'altro carico di talento carico di forza carico di prospettive ha fatto doppietta martial ha segnato un gran gol di testa rushford il manchester united per la seconda volta in questa stagione solo la seconda volta ha vinto la partita ottenendo la supremazia nel possesso palla questo è un dato che mi ha colpito parecchio perché è un dato che parla perfettamente delle caratteristiche della squadra di solcher solcher molto molto bravo nel trovare la quadra perché qualche mese fa lo davamo molto vicino all'esonero perché io rimango convinto del fatto che la rosa del manchester united non sia una rosa perfettamente omogenea bilanciata e forte in tutti i reparti però evidentemente solcher è riuscito a resistere alla tempesta a tenere la barra dritta ad andare avanti per la propria strada e sulla propria rotta e adesso le cose cominciano a funzionare perché il manchester united è solo a quattro punti dal celsi quarto ha detto una cosa importante il manager norvegese dopo la partita proprio riguardo al fatto che il manchester united non sempre anzi quasi mai faccia la partita abbia il pallone lui ha detto noi non siamo il manchester city non possiamo pensare di giocare contro il manchester city dobbiamo essere duri dobbiamo essere difficili da superare per gli altri questo è un concetto molto manchester united ed è un concetto che può portare la strada della crescita la strada del ritorno con questi giovani che si stanno esprimendo con queste idee che attecchiscono con un manager che magari all'apparenza sembra un po' un parvenu anche se è una parola sbagliata da associare a solcher ma un manager che evidentemente ha know how sa come fare e conosce molto bene nell'ambiente per cui direi che è un buon momento per il manchester united è un momento invece terribile per il celsi che ha perso in casa contro il coraggioso southampton di un coraggioso asenutel perché è stato molto bravo il manager nell'inventarsi l'idea di tenere fuori inks un giocatore che gli ha garantito dei gol molto pesanti e di lanciare obafemi che lo ha ringraziato segnando il gol dell'uno a zero southampton che sta andando piuttosto bene a sei punti in più dell'anno scorso è una squadra che a inizio stagione vedevo molto in difficoltà invece adesso è riuscita abbastanza a risollevarsi una vittoria molto importante una sconfitta pesante per il celsi che non perdeva due partite di fila in casa dal 2011 tra l'altro oggi le ha perse contro avversari abbordabili allora furono contro arsenal e liverpool se non ricordo male non perdeva tre partite nello stesso mese dal 2015 e sono tre le sconfitte nel mese di dicembre celsi che non aveva mai fatto così pochi tiri nell'era lampard come nella partita del boxing day e allora frankie lampard ha parlato di una questione di personalità lasciando intendere il fatto che si possono allenare tante cose ma trovare personalità trovare sicurezza trovare il modo non solo di continuare ad arrivare attorno all'area di rigore di costruire bene calcio ma poi anche di arrivare ad essere affilati a colpire è la cosa più difficile ed è assolutamente vero io sono convinto che questa flessione sia quasi fisiologica per il celsi che è andato fin troppo forte nei primi mesi di stagione ha ottenuto una grandiosa qualificazione in un girone complicato di champions si è piazzato subito nel top four tenendo un passo entusiasmante per una squadra con un manager esordiente in premier league con tantissimi giovani portati su dal vivaio e da esperienze in championship con il mercato bloccato ci sta che si sia arrivati un po corti alla fine dell'anno solare il problema è che adesso si gioca tanto poi però ci sarà gennaio e il celsi evidentemente scenderà sul mercato per puntellare la rosa e per andare avanti per questo obiettivo che è un obiettivo direi assolutamente vero perché il celsi comunque è quarto il celsi merita di essere quarto il celsi giocherà fino alla fine per entrare in champions league chi giocherà fino alla fine per entrare in champions è sicuramente anche il tottenham tottenham che ha vinto in rimonta la partita casalinga contro il brighton ha un po' consolato giosè maurigno ha fatto specie vederlo così abbattuto per la perdita del suo cane ma è una cosa che si comprende quando hai avuto occasione di avere un animale in famiglia come ha detto lui davvero nel momento in cui viene a mancare è come se fosse un lutto e questo nuovo giosè maurigno così anche emotivo ed emozionale continua ad essere una figura estremamente interessante di questo momento e di questa stagione continua ad essere interessante anche il suo tottenham che ha rischiato ha giocato un primo tempo brutto primo tempo a velocità di crociera senza cambio di passo nella ripresa invece si è andati su ritmiche ben più adeguate ha segnato ancora harry kane le statistiche mi dicono che harry kane ha segnato 8 gol in 5 boxing day giocati in premier league evidentemente davvero inglese la data lo stimola parecchio poi è stato molto bello il gol di telealli un gol di stile di organizzazione anche di capacità risolutiva vittoria importante per il tottenham che riparte dopo le sconfitte delle ultime settimane in scontri diretti con il celsi e il manchester united ripeto sono abbastanza sicuro che il tottenham rientrerà a sua volta in questa barahonda che sarà la corsa per il quarto posto magari anche per il terzo vediamo come assorbe il colpo dello 0-4 all'ester vediamo come si rialza la manchester city insomma se il liverpool comanda totalmente questo campionato lì dietro la brace è estremamente viva e a proposito di vita il colpo più salvifico più ossigenante della giornata è stato quello della stone villa che è riuscita a tornare alla vittoria dopo un periodo nero dopo essere crollata in classifica dopo essere finita fra le ultime tre ha battuto una concorrente diretta come il norwich direi che per il norwich il segnale non è definitivo ma è un altro capo d'accusa per i canaris sarà molto difficile vederli salvi così come sarà difficilissimo per il watford salvarsi il west ham il west ham è in forte difficoltà la situazione del west ham è estremamente preoccupante insomma è stato un boxing day estremamente ricco estremamente scoppiettante io tra l'altro mi sono occupato anche del boxing day di championship facendo la telecronica di leeds preston earthend due nomi che solo ad evocarli ti fanno sentire profumo di storia e leeds ha pareggiato all'ultimo minuto non è un gran momento per il leeds del loco bielsa se volete vi faccio un focus sulla stagione di bielsa sulla missione di questo allenatore e su cosa sta facendo in questo club estremamente interessante interessante che è il leeds però mi dovete dare i vostri riscontri i vostri like a questo video i vostri commenti chiedermi se vi interessa parlare del leeds di marcello bielsa quindi grande giornata di calcio inglese ma il bello di questo momento che sono tutte grandi giornate di calcio inglese stasera c'è un super wolverhampton manchester city wolverhampton che vincendo andrebbe da solo al quinto posto e il city riprenderebbe il secondo per cui sarà una super partita poi c'è un grande turno spalmato sul weekend poi ci sarà il turno di capodanno insomma credo che parleremo tanto di inghilterra in questi giorni e credo anche che mi faccia piacere così come fa moltissimo piacere a me